30 mm di apertura 135 mm di lunghezza focale Tripletto apocromatico con lenti edif Un bellissimo piccolo astrografo Rapporto focale di luminosità 4,5 mm e messa a fuoco elicoidale Non ha bisogno di maschere di patino Basta una messa a fuoco numerica Che se il tempo tiene stasera Eh? Speriamo Vi lascio a schermo l'integrazione che avevo promesso nel video precedente Facendovi vedere che dopo 8 ore di esposizione Le cose cambiano Cambiano tanto Lasciate perdere il colore Perché nel video precedente La colorazione era rossa In questo È blu Ma è per far risaltare di più La nebulosità Perché L'amore tra me e il 60 mm è finito Perché semplicemente Non è Un tubo Cattura Cattura immagino Ma è semplicemente un tubo guida Questo era scontato dirlo Però Da che c'ero Ho voluto restare la sua funzionalità Come tubo di cattura Di cattura video Di cattura Di Tubo planetario Però c'è da croppare tanto Se nello scorso video Vi avevo detto Che il campo Massimo Con stelle puntiforme Era 75% Dopo 8 ore di esposizione Vi dico che Il campo Si ridusse Teriormente Cioè Avete proprio Non voglio esagerare 55 Massimo 60% Di stelle puntiforme Il resto è da buttare Quindi È dura Cioè È stato un test Il test Non è stato assolutamente passato Ma con questo Le cose cambiano Perché questo Non ha niente a che fare Con il tubo di guida Questo è Un piccolo astrografo Vi lascio a schermo Anche La nebulosa IC3C18 Anch'essa Con 8 ore di esposizione Sempre con il tubo di guida Non devo neanche dire Che ho croppato Come un Un orso polare Per riuscire A tirar via Le strisciate Poi ho abbandonato Però i motivi Insomma Lavorare in queste condizioni Era veramente difficile E Aspettavo in grazia Che arrivasse L'ascar Dal negozio di Luca Seveso Arte Sky Se vi interessa Il prezzo Andate sul sito di Luca Seveso E andate a vederlo E' un prezzo che io ritengo Equo Rispetto al fratello maggiore Che è un 40mm di apertura E un 180mm di lunghezza focale Però ha un rapporto di luminosità di 4 E' più luminoso Però era un po' più spinto Per i miei scopi Un 135mm era più sufficiente Spero di esservi stato utile Che il video vi sia piaciuto Like Iscrizione E noi ci vediamo Prestissimo Ciao ragazzi Ciao Ciao